Allora partiamo dal fatto che secondo me questo video vale proprio come oro colato se noi riusciamo a capire come utilizzare questo pattern che vedremo oggi ci faciliteremo tantissimo la vita soprattutto nell'analisi multi time frame che per chi mi conosce bene è quella che utilizziamo noi per operare per capire tutti i movimenti del mercato e questi schemi saranno proprio per voi un bacio dal cielo perché vedrete che vi semplificherete tantissimo il modo di operare e avrete un edge statistico a vostro favore molto più grosso come sempre vi chiedo solo di lasciare un like per tutte queste informazioni gratuite che sto portando che magari a voi non cambia assolutamente niente per me è una differenza abissale ed iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati con tutti i video e la formazione che usciranno in futuro vi ho preparato degli schemetti a livello teorico così capiamo bene tutto come funziona poi andiamo invece a livello pratico a vedere nel dettaglio nel pratico come utilizzare queste tipologie di pattern buona visione a tutti allora ovviamente la conferma più importante che dobbiamo imparare è la dominance perché questa ci può dare degli indizi molto prima che il mercato poi faccia quel movimento perché se capiamo questa possiamo entrare a mercato anticipatamente rispetto ai movimenti che poi deve compiere quindi i riposi, le estensioni, ora vedremo bene tutto ovviamente questi concetti che utilizziamo sono frattali quindi possiamo utilizzarli in tutti i time frame il mercato se impariamo a capire come si muove è frattale si muoverà in tutti i time frame nella stessa maniera potremmo usare gli schemi che utilizziamo su un time frame grosso anche sui time frame piccoli si muoveranno nella stessa maniera ovviamente più saliamo di time frame però più statistica abbiamo che il mercato faccia quei movimenti perché come ripetiamo spesso il Monfli la candela vale un mese ha un mese di informazioni dentro molto più importante che una candela di M15 però i stessi movimenti che utilizziamo lì magari che utilizziamo dal Monfli al Daily possiamo utilizzarli da H4 a H1 come da M30 a M5 quindi cerchiamo di capire questi movimenti che vediamo adesso e potremo utilizzarli da tutte le parti il primo utilizzo della dominance fondamentale di questo pattern è prenderci un riposo dei time frame più alti ad esempio questi sono ovviamente gli esempi che faccio io ripeto sono per analisi multi time frame perché noi non apriamo solo il classico H1 e non capiamo cosa c'è intorno e poi prendiamo stop loss e diamo colpa al mercato noi vogliamo capire al 100% i movimenti del mercato perché dobbiamo tradare solo con un time frame se ne abbiamo a disposizione 10, 15 no? guardiamo nella maggior parte cerchiamo di capire tutta la big picture non se tradiamo in traday solo al nostro H1 senza capire però la visione dei time frame più grossi e magari compro e il mercato mi va contro e stavo comprando su un massimo del daily o se trado scalp guardo solo il mio M5 e magari l'operazione potevo prendermela ancora più lungo termine perché ero a favore dei time frame grossi e invece mi sono preso il take profit molto prima capiamolo bene questo mercato se ci vogliamo lavorare quindi il primo utilizzo è aspettarci il cambio dominance nel ritracciamento ad esempio se sul Monfri siamo rialzisti come ripeto spesso non vuol dire ovviamente che dobbiamo per forza entrare solo long perché tanti dicono eh però io come faccio a capire se sono a favore di trend se sul Monfri sono rialzista devo entrare per forza rialzo poi sul weekly c'ho sul time frame ribassista sul daily long cosa devo fare? ovviamente devo saper contestualizzare il mercato è una materi osca dobbiamo saper vedere time frame per time frame aprire questa materi osca e saperla leggere se sul Monfri siamo rialzisti il riposo del Monfri è ribasso sono un sacco di pips che ci possiamo prendere e questo l'abbiamo capito lo diciamo molto spesso però cosa devo aspettare per prendermi questo riposo del Monfri? non è che dico ah secondo me il mercato ha finito l'estensione e allora vendo perché secondo me deve riposare il secondo me nel trading dobbiamo eliminarlo e buttarlo nel cestino perché il secondo me ci farà perdere un sacco di soldi noi dobbiamo operare quello che il mercato ci mostra quello che ci fa vedere il secondo me eliminiamocelo dalla testa quindi noi possiamo farci un'analisi ad esempio sul Monfri una cosa da vedere magari tirare Fibonacci facciamo finta che questa era un'estensione precedente quindi io dal Monfri posso tirare Fibonacci ok e non utilizzarlo solamente per i livelli normali come il 61, il 71 dove può riposare vedete ormai c'è un millimetrico Fibonacci senza farlo apposta 61 qua ci sono anche il meno 23, meno 61, meno 80 che in questo caso ve l'ho disegnato io ora il mercato non inizia a riposare al meno 80 ma solitamente inizia a riposare in questi livelli qua tra il meno 23, meno 61, meno 80 facciamo finta che il mercato ci sia arrivato al meno 80 che io abbia avuto un'estensione precedente così ecco questa è una cosa che posso fare sul Monfri posso capire ok il mercato mi è arrivato in un livello di fine estensione magari sul Monfri la cosa che guardiamo sono i candlestick pattern e iniziamo a dire ok sta iniziando a rifiutare a crearmi delle doge a crearmi delle candele di indecisione e sul Monfri hanno tanto valore quelle candele perché ripeto sono del Monfri e quindi il Monfri potrebbe iniziare a riposare ma non è che io vado direttamente a vendere lì dal massimo del Monfri perché uno perché venderei con uno stop loss enorme non avrei una zona precisa se vendessi così mi prenderei tutto questo riposo del Monfri che magari sono 500, 700, 1000 pips per prendermi un 1-2 che noi disputiamo in faccia un 1-2 ma possiamo fare molto di meglio quindi uno entrerei male e due quindi con un rischio di rendimento piccolo e due entrerei con poca statistica perché chi l'ha detto che il mercato era vuole andarmi a ribasso magari mi ha fatto una candelina una doge poi continuo ad andare a rialzo devo avere una conferma dai time frame più piccoli cosa devo avere la dominance come conferma che mi cambia ad esempio sul Monfri vedo che siamo almeno 23 meno 61 i livelli che abbiamo visto prima candlestick pattern dico ok scendiamo di time frame ecco la situazione qual è sul daily magari la dominance è cambiata perché la dominance ho fatto anche un video a riguardo di ogni cosa di cui parlo in questo canale ho fatto dei video a riguardo prima quindi se non sapete cos'è la dominance nel canale ho fatto dei video sulla dominance il pattern più importante secondo me in questo mercato quindi questo massimo ad esempio era stato rotto da questi buyers ok quindi la dominance la stavano comandando questi buyers questi buyers poi vengono rotti da un'immissione short la dominance diventa sell e non è uguale al trend la dominance ragazzi perché la dominance la comanda l'immissione che rompe quindi se qua mi avesse fatto una candelina ve la faccio rossa ribassista qui poi una candelina rialzista verde e poi una candelina ribassista qua di nuovo la dominance non sarebbe short da qui sopra non parte l'immissione da qui che mi va a rompere perché questo minimo dobbiamo guardare le rotture con il corpo non era ancora stato rotto poi mi hanno creato un'altra candelina buy è questa l'immissione che mi rompe col corpo quindi la dominance era short da qui e perché dico che non è uguale come il trend perché se qui i buyers mi avessero rotto con il corpo questa candelina qui sarebbe sempre un trend ribassista massimo minimo massimo più piccolo ma la dominance sarebbe diventata rialzo da qua perché questi sellers che comandavano sarebbero stati rotti dai buyers questo non c'entra ma solo per farvi capire un attimino la dominance come funziona a parte quello la dominance qua è diventata ribassista sul daily perché appunto questi buyers che comandavano sono stati rotti dai sellers quindi ora dico ok non è più solo un mio pensiero non è che c'è solo il meno 23 meno 61 1.8 o il meno 80 del monfre che il mercato è arrivato lì e ora inizia ad andare giù mi sta cambiando la dominance sul daily quindi sul time frame più piccolo il mercato sta iniziando a dirmi guarda Gabri che io inizio ad avere potenza ribassista inizio ad andare a ribasso visto che me lo chiedete ogni giorno in tantissimi su instagram e sono contentissimo di questo infatti vi ringrazio vi lascio l'instagram qua faccio formazione one to one seguo pochi ragazzi alla volta per seguirli per bene pochi ma almeno arriviamo all'obiettivo con loro pochi perché non riesco materialmente a prenderne tanti seguendoli one to one e volendo portarli al risultato però almeno arriviamo all'obiettivo con loro e per i ragazzi che seguo one to one ho un canale discord dove faccio due ore di live a settimana oltre alle one to one e qua ci sono diverse sezioni dei di trading vedete qua andano le loro analisi ok l'ore si aveva preso questa l'altro giorno trading chat risultati e feedback link della formazione live tutte le lezioni che faccio live le due lezioni a settimana rimangono registrate e uno le può vedere a che ora vuole e può vedersene quanto vuole di tutte quelle passate e poi ragazzi vi lascio telegram anche qua perché sto iniziando a tirare tante bombette tante opportunità su telegram privato quindi trovate il link in descrizione e vi consiglio di entrarci perché potete vedere tante cose magari che non faccio vedere su youtube e potete sfruttare molte opportunità quindi vi consiglio di entrare anche su telegram e quindi in caso trovassi una vendita il target massimo ovvero se vendo il take profit massimo è dove comanda il daily perché anche se trovo una vendita a ribasso qua e mi prendo questo che è un riposo un ritracciamento del daily poi comanda sempre il time frame più grosso quindi sul monfre il mercato potrebbe poi riandarmi a rialzo perché ha fatto massimo minimo massimo più alto siamo in un talent rialzista la dominance del monfre è rialzista da qua perché da qui partiva l'immissione che rompeva il massimo e quindi se trovo un'entrata short qua dentro il massimo take profit è dove comanda il time frame più grosso il monfre però attenzione ritorniamo a noi non è che se sul daily ho la dominance ribassista allora vendo diretto senza capire dove sono perché anche il daily è composto da massimi minimi massimi minimo più piccolo e ci potrebbe fare un massimo più piccolo quindi siamo d'accordo che è quello che non capiscono in tanti che non contestualizzano non fanno analisi multi time frame che se io trovo un'entrata short qua non vado a vendere qui perché starei vendendo in un minimo il mercato deve riposare e poi scende quindi se io vado a vendere qua subito perché la dominance è diventata short e vendo il mercato mi fa andare in stop loss perché starei vendendo in un minimo del daily è per questo che contestualizziamo bene quindi stesso ragionamento che abbiamo fatto sul monthly se siamo ribassisti sul daily non vuol dire che dobbiamo per forza solo vendere perché appunto ha finito l'estensione potrebbe riposare verso il rialzo quindi ritestarci la struttura arrivare qua da una buy to sell magari che c'era qua c'era l'ultima buy magari prima del sell che rompeva ok riposare ritracciare e però questo ritracciamento del daily magari sono 100 200 300 pips a rialzo che su h4 se la dominance come in questo caso che vi ho disegnato qui stesso ragionamento che abbiamo fatto qua per il ribasso col daily stesso ragionamento qui vedete quando vi dico fratellità di mercato il riposo del daily scendiamo su h4 come poi riposo di h4 possiamo scendere su h1 se in questo punto che vi ho disegnato di viola questo rettangolo il mercato vedo che sul daily mi sta iniziando a riposare mi fa una candelina mezza rialzista su h4 mi ha cambiato dominance quindi la dominance era short questo minimo rotto da questi sellers che sono stati rotti dai buyers io posso comprare su h4 però con la consapevolezza che il mio take profit massimo se compro perché la dominance mi ha cambiato potenza rialzista il mio take profit massimo sarà fino dove da dove vi ho segnato questa linea rossa che è qua del daily da dove comanda il daily perché una volta che ho preso questo riposo di h4 quindi questo riposo scusatemi del daily rialzo ok e faccio arrivare al mercato fino qua e sono entrato qua su h4 che è qua zoomato il mercato potrebbe continuare a andare giù perché sono ribassista sul daily e quindi andrei in stop loss e metterai un take profit più alto c'è sempre da capire dove stiamo entrando è per questo che vi dico se capiamo questi concetti noi possiamo tradare sia swing che intraday che scalp perché sono frattali li possiamo utilizzare in tutti i time frame però dobbiamo capire dove siamo al mercato per questo che molti magari che aprono solo h4 comprano mettono un take profit magari più sopra perché non capiscono cosa succede nei time frame più alti e il mercato gli fa questo e arriva qua in questa zona del daily ma loro non lo sanno perché non l'hanno guardato e gli va contro e prendono stop perché non hanno contestualizzato quindi noi ci aspettiamo per prenderci un riposo del monthly il cambio dominance sul daily sul daily bisogna vedere se possiamo vendere subito in questo caso no perché siamo in un minimo ma io entrerei quando ci cambia la dominance anche sul daily quindi se voglio invece entrare direttamente short anche dal daily mi aspetterei questa zona come zona di supply ci andiamo ad identificare la zona aspettiamo che il mercato arrivi qui e poi aspetto che anche su h4 dopo che mi è arrivato in questa zona mi cambi dominance e allora vado ad entrare questa era la mia zona che ho disegnato qua sul daily aspetto su h4 un cambio dominance questa conferma questo pattern è molto molto potente perché perché se noi poi ci aspettiamo su h4 questo cambio dominance che vi ho appena disegnato ad esempio ok vediamolo bene dominance è la rialzista qua ci fa questo massimo rotto da questi buyers che poi vengono rotti i sellers diventa short se io poi riesco a entrare a ribasso ora qua ve l'ho disegnato io fate finta che troviamo un'entrata sulla sell to buy buy to sell entriamo qua su h4 short noi stavolta ci possiamo prendere un take profit un'operazione molto più grossa che questa che abbiamo preso a rialzo perché questo era un riposino un ritracciamento fino ad arrivare qua dal daily ma se entriamo short qua noi volendo ci possiamo prendere il take profit massimo fino a dove comanda il monflip perché stiamo entrando a ribasso qua e siamo consapevoli che il mercato ci può arrivare fin dove comanda il monflip ovviamente parzializzando piano piano non un unico take profit qua prendiamo un take profit magari prima dalla struttura in efficienza quello che abbiamo però qua ci possono uscire rischi rendimento più grossi quindi se fossi entrato short direttamente sul monflip avrei preso tutto questo movimento per un 1 a 2 e invece se avessi aspettato un cambio dominant sarei entrato meglio invece con un 1 a 2 magari un 1 a 7 una 10 una 5 ok e a parte quello che guadagno molto di più con molta più probabilità a mio favore molta più statistica andare in profitto perché qua mi ha cambiato la dominance se non me l'avesse cambiata può succedere che il mercato ci fa questo non ci cambia la dominance e tanti entrano diretti e prendono stop loss perché ci dobbiamo prendere questi stop loss se non ci cambia la dominance quindi entriamo sia con più probabilità a nostro favore perché entriamo solo se ci cambia la dominance e quindi entriamo quando abbiamo veramente la statistica a nostro favore entriamo con un rischio rendimento maggiore possiamo guadagnare di più vediamo degli esempi a mercato di come potevamo utilizzare la dominance in un riposo dei time frame grossi per prenderci il riposo dei time frame grossi e poi dopo torniamo qua invece a vedere come invece potevamo prenderci tutte le estensioni dei time frame grossi non i riposi anche lì lo vediamo prima a livello teorico e poi vediamo degli esempi ora andiamo a vedere gli esempi di come potevamo prenderci i riposi dei time frame più grossi ok qui siamo su euro dollaro e siamo rialzisti su questo non ci piove siamo su un weekly quindi su un time frame molto grosso massimo minimo massimo più grosso minimo più grande massimo più grosso però vediamo che il mercato ci sta iniziando dal weekly a dare dei segnali di riposo a farci una candelina ribassista da qua cosa possiamo fare nei time frame grossi tiriamo sempre fibonacci quindi dal minimo al massimo precedente per vedere dove può finire questa estensione iniziare a riposare tiriamo fibonacci e vediamo da qui che il mercato ci è arrivato precisamente al meno 23 che è uno dei livelli dove può iniziare a riposare però non ci basta al meno 23 e entriamo se no dovremo entrare tutte le volte che ci tocca al meno 23 dobbiamo aspettare nei time frame più piccoli il cambio dominance perché vediamo che qua comunque è andato a rialzo ci ha lasciato un sacco di inefficienza da colmare ha lasciato delle strutture che erano prima resistenze che possono diventare supporti aperte potrebbe venire a testarle quindi noi nei time frame più piccoli cavolo questo riposo qua andiamo anche solo fino qua sono 280 pips vuole tornare più giù addirittura a 400 noi ce li possiamo prendere nei time frame più piccoli scendo su H4 la dominance è ancora rialzista qua vediamo elimino la semiretta ma ricordiamoci che il mercato è almeno 23 potrebbe iniziare a riposare stanno i buyers ecco vediamo anche il momentum qua erano potentissimi vedete come sono venuti su potenti qua stanno iniziando ad andare su un po' più lenti ok quindi vediamo che iniziano ad indebolirsi la dominance com'era l'ultima struttura rotta da questi buyers che ancora non sono stati rotti col colpo rialzista da qua facciamo andare avanti qua ci vengono rotti questi buyers ok scendiamo nei time frame più piccoli ecco qua su H3 si vede meglio ecco perché su H4 la buy to sell che potevo prendere per vendere questa con piena di rifiuto non va bene su H3 si vede meglio io qua so che mi hanno cambiato la dominance questa potrebbe essere una caccia tutti questi massimi uguali ok quindi anche uno schema di Wyckoff una distribuzione ovviamente quando deve fare movimenti importanti qua parliamo di un riposo del weekly di un ritracciamento del weekly fare un sacco di pips il mercato deve avere la liquidità io dico sempre deve avere la benzina per muoversi prendo l'entrata su H3 su questa candela perché è molto bella quindi tiriamo una semiretta molto piena col corpo semiretta impostazioni number theory 73 rotondiamo in negativo a 50 anche un po' più giù mettiamo per per prenderla e non perdercela ed è entrata qua stop lo sopra il rifiuto della candelina buy to sell che abbiamo preso qui capite ragazzi che il take profit è tutto un riposo però anche solamente qui a chiusura in efficienza va benissimo lasciamo andare avanti il mercato ci torna la nostra entrata ce la prende ecco qua si poteva fare un'altra entrata di nuovo questi minimi chi ce l'ha rotti qua c'era un'ultima buy to sell molto bella ok ovviamente si portava break even la prima perché dopo che ci rompe un minimo questo era un supporto diventa una resistenza ci copre il prezzo ci fa da copertura portevamo a break even questa che ora non vi porto se no ci toglie tutto ma fate finta che ce l'abbiamo portata anche qua un'altra entrata 122.14 ci arrotondiamo a 122 mettiamo l'entrata qui stop stavolta uguale a prima sopra la buy to sell qua non ha rifiuto quindi praticamente nell'entrata prima e questa era un'altra entrata che potevamo fare vedete comunque sono dei bei rischi rendimento una 11 una 7 e non con cose inventate ok in senso sono questi concetti che stiamo vedendo cambio dominance immissione che rompe strutture buy to sell o sell to buy ci tornano e reagiscono molto bene qua e queste erano due entrate che potevamo fare qua ci sono arrivate al primo take profit lasciamo andare avanti anzi poi sono arrivate molto più sotto andiamo sul daily vediamo cosa ha fatto il mercato poi questa ragazzi volendo ecco senza fare gli sboroni io me la sarei portata sapete che sono sempre onesto con voi fino qua se no avrei tenuto qualche percentuale aperta tipo un 20% dell'operazione aperta magari qua dalla struttura o qua proprio a questa chiusura in efficienza però questo era un riposo nei riposi quando ci prendiamo i ritracciamenti dobbiamo sempre essere un pochino safe quindi questa vedete perché questa estensione riposo quindi poi che ci ha rotto e ci cambi totalmente trend è un'altra questione poteva lasciarci magari un 20% aperto però onestamente io l'avrei chiusa prima però anche solo chiudendo la prima dove volevamo noi anche qua da questa inefficienza comunque ci saremo presi un 1 a 11 e un 1 a 7 con questi concetti il mercato è arrivato lì nei frame più grossi abbiamo visto che il mercato era arrivato almeno 23 di Fibonacci dove poteva iniziare a riposare e ci stava iniziando a farci delle candele ribassiste su H4 abbiamo aspettato un cambio dominance e questo è il primo esempio per prenderci il riposo cambio dominance e siamo entrati siamo entrati molto meglio perché se fossi avessi voluto entrare direttamente qua in questa situazione entravo così anzi uno stop ancora più sopra non sapevo se me lo sporcava e invece qua siamo entrati molto meglio con più precisione e con molta più statistica a nostro favore qui ragazzi siamo su GBPCHF rialzisti è un altro esempio per il riposo siamo rialzisti vediamo che comunque qua ci ha rotto questa struttura ci ha fatto un massimo più grosso il precedente potrebbe iniziare a riposare ora cosa facciamo tiriamo Fibonacci dal minimo al massimo precedente questo era uno schema di Wyckoff anche ragazzi zona ovvia tutti questi minimi uguali caccia ci cambiano la dominance che stavano comandando questi sellers che ci avevano rotto questo minimo diventa buy ok e qua ci fanno il test interno e via e il mercato inizia ad andare a rialzo quindi qua sappiamo che sta andando a rialzo ma siamo magari alla fine di un'estensione tiro Fibonacci dal minimo al massimo precedente per vedere in che punto sono vediamo che sono almeno 80 quindi da qua capiamo che potrebbe iniziare a riposare sta iniziando a fare una candela ribassista scendo di time frame eliminiamo tutto scendo di time frame e vado sul mio H4 vediamo che qua la dominance è cambiata finalmente cosa che prima non faceva massimo rotto da questi buyers massimo rotto da questi buyers qua adesso qua questi sellers ci hanno rotto questo minimo la dominance è short da qui era rialzista da qua questi buyers sono stati rotti dai sellers nella situazione in cui siamo ora io cosa posso dire bella questa zona qua c'è un'ultima buy to sell scendiamo di time frame per vedere se la troviamo ancora meglio H2 bella piena ecco H1 quella un po' più piena con meno rifiuto si prende questa anche questo ovviamente ragazzi è una manipolazione guardate l'orario alle 9 di mattina all'apertura della Londra una distribuzione zona via caccia e noi diremo perché troviamo sempre le distribuzioni o gli accumuli prima che il prezzo deve partire come in questo caso il prezzo deve partire a ribasso deve riposare caso strano c'è sempre una distribuzione perché ovviamente il mercato ha bisogno di liquidità di soldi per muoversi si muove la liquidità e quindi ho fatto una lezione ho fatto più lezioni anche su questo sulle manipolazioni di mercato le trovate sul canale e quindi il mercato deve fare questo schema nostra buy to sell tiriamo la semiretta ovviamente e qua 146.31 facciamo i 20 number theory 20.50.80 entrata qui stop sopra il rifiuto quindi stop un po' più grosso stavolta però ci stiamo prendendo un movimento molto importante scendiamo di time frame guardate quanta liquidità dinamica c'è anche qua che non è solo statica ma anche dinamica delle trend line e quindi il mercato qui ci potrebbe iniziare a riposare veramente tanto andiamo sul weekly e vediamo che comunque il take profit almeno qua dalla struttura si potrebbe mettere qua è un 1.5 non è un rischio di rendimento come prima esagerato in caso vi faccio vedere quindi almeno qua da questi minimi se non addirittura più sotto ci arriva la nostra entrata precisa che l'abbiamo presa bene su H1 vedete non sono concetti inventati sono sempre gli stessi ci ha cambiato la dominance l'ultima buy prima del sell che ci rompe le strutture che è anche un test interno siamo entrati in una mitigazione caccia mitigazione quindi anche a livello di Wyckoff vedete uniamo la price action a Wyckoff prima viene la price action sempre e poi ci aggiungiamo concetti di manipolazione di mercato e qua al mercato ora saliamo i time frame se no è lunghissima su H1 ci fa quello che deve fare ok quindi qua ci ha messo un po' di più andare dal riposo e qua ci arriva a take profit qua ci è arrivato a target e qua ci siamo presi ci siamo presi il riposo del weekly addirittura poi ci ha rotto è andato anche più in basso però qui si poteva prendere se no anche fino qua sotto dai minimi anche se ripeto io l'avrei presa fino a qua ok perché poi sarebbe potuto andare ancora a rialzo a coprirci dell'inefficienza qua sopra può prenderci tanta liquidità dinamica che c'era però comunque anche qua è una bella operazioncina vediamo il secondo utilizzo della dominance che è quello non per prenderci riposi ma per prenderci le estensioni è molto semplice in senso che se abbiamo capito quello prima è più o meno lo stesso pattern qua stavolta invece che sul monfly prenderci tutto questo riposo a ribasso noi magari sul monfly abbiamo la nostra zona di demand in questo caso per il rialzo supply per il ribasso io vi sto facendo gli esempi per il rialzista per il ribassista è la stessa cosa quindi noi ci aspettiamo un mercato che sul monfly rialzista da queste zone inizia ad andare a rialzo ma non entriamo direttamente da qua perché dovremmo comprare con 3 miliardi di pips di stop loss perché siamo sul monfly prenderci tutta un'estensione per fare un 1 1 1 2 e anche qua non abbiamo conferma nei time frame più piccoli quindi noi ci segniamo la zona dove il mercato potrebbe sul monfly reagirci e partire e poi su h4 in questo caso ci aspettiamo un cambio dominance il mercato arriverà ribassista qua cosa fa in questo caso la dominance era ribassista da questi sellers vengono poi rotti dai buyers è diventata rialzista da qua metto l'entrata magari sulla mia sell to buy o la struttura vediamo cosa abbiamo e ci prendiamo un'entrata con un rischio rendimento molto più grosso e a parte il rischio rendimento molto più grosso anche a livello statistico molto più importante quindi andiamo a grafico a vedere anche due esempi per le estensioni ok qui siamo sul weekly vediamo che siamo rialzisti su gbpnzd qua ci ha fatto uno schema enorme zona ovvia caccia rottura massimo più grosso cambio dominance dove sono tornati ultima sell prima del buy che ci è andato a rompere tutti i massimi tornati qui in questa zona e reagito a rialzo e fin qua ci siamo qui cos'è successo poi il mercato è sempre rialzista perché qua siamo sul weekly ma nei team frame ancora più grossi ci fosse appunto un annuale ad esempio questo è il minimo e questo è il massimo il mercato sta riposando però fin dove potrebbe arrivare questa è una zona ce ne sono poi diverse zone dove il mercato potrebbe reagire noi dobbiamo poi essere bevi aspettare il cambio dominance in questa zona qui c'era l'ultima sell prima del buy che ci è andato a rompere le strutture precedenti vedete queste ok quindi il mercato può reagirci da qua quindi io scendo nei team frame più piccoli vado su h4 vedete che mi sta consolidando la dominance però è ancora ribassista perché questi sellers questo minimo scusatemi è rotto da questi sellers quindi ora dobbiamo aspettare che ci vengano rotti ecco qua in questo caso questi buyers rompono questi sellers la dominance diventa rialzista qua vedete sempre comunque stessi schemi pam pam e via qui c'era l'ultima sell prima del buy che rompe tutti questi massimi quindi io cosa faccio vado a prendermi questa candelina qua a tirare la semiretta 80 e metto l'entrata qua noi quindi che cosa facciamo noi possiamo avere vi faccio un esempio prima diverse zone dove il mercato ci può reagire perché se siamo in questa zona qua il mercato ci può sul monfa ad esempio il mercato ci può reagire sia su un rita struttura che su dell'imbalance sotto che sulla candelina sell to buy capite che chi trada comprando perché dice che secondo me il mercato reagisce lì a livello statistico ha già 33% che il mercato reagisca qua 33 qua e 33 qua perché sono già 3 entrate diverse quindi già non ti metti a livello statistico perché ci sono diverse zone giuste dove potrebbe reagire il mercato struttura inefficienza immissione noi quindi se ci aspettiamo conferma come abbiamo aspettato in questo caso appunto ci mettiamo la statistica a nostro favore perché magari su h4 invece queste zone che abbiamo disegnato vi faccio 3 righe 1 2 e 3 il mercato arriva qua non ci cambia la dominance arriva qua non ce la cambia nell'ultima ce la cambia e io entravo solo nell'ultima e qua mi sono evitato due stop loss perché non mi ha fatto il cambio dominance quello che vi volevo far capire è questo quindi tradiamo quello che vediamo non quello che pensiamo in questo caso qui abbiamo messo l'entrata sempre stessi concetti sell to buy che ci rompe tutto lo stop loss sotto la candelina nera perfetto il take profit lo andiamo a mettere ovviamente ecco qua ci stiamo prendendo la differenza di prima che era un riposo dei time frame più grossi qua un'estensione di time frame più grossi qua ragazzi non escono sempre queste entrate prima che la gente scriva eh però fai vedere gli 1.80 con il replay non escono sempre queste entrate ragazzi ovviamente perché il mercato non fa movimenti estensioni monthly ogni giorno ma quando le fa qua ti puoi prendere questi rischi di rendimento perché io mi posso mettere benissimo il take profit qua dal massimo del weekly del monthly perché sto prendendo un'estensione totale anzi potrebbe andarcela a rompere e farci un massimo più grosso ma non ha niente di inventato e di particolare abbiamo usato queste conferme ci aspettiamo il cambio dominance abbiamo preso la sell to buy e qui possiamo sbizzarirci con il take profit non escono ogni giorno queste entrate qua ce la prende precisissima vedete ok non escono ogni giorno queste entrate ma quando escono ora saliamo di time frame se non finiamo più ok e qua il mercato ci esplode a rialzo vediamo sul weekly cosa ha fatto dove è andato qua ci ha rotto tutto ha fatto un minimo più grande massimo più grande qua di nuovo riposa e ora molto probabilmente riparte ok e qua è ripartito e qua ci ha preso anzi è andato ancora più su vedete stessa cosa se uno poi sarebbe voluto rientrare prendersi i movimenti del genere questa era un'altra zona di demanda come abbiamo insegnato qua ci aspettavamo un cambio dominance qua e ci prendevamo un'altra estensione ripeto non escono ogni giorno queste entrate il mercato non fa le estensioni ogni giorno del monthly ma questo è un 1,25 ovviamente parzializzando prendevamo diversi take profit non un unico qua sopra quindi il profitto generale era meno ma questo è un 1,25 che ci potevamo prendere qui ragazzi siamo rialzisti su ourcad vedete massimo più grosso qua sta riposando vedete l'estensione come era potente era il riposo un po' più debole e qua siamo in una bella zona di demanda dove il mercato potrebbe reagire dove si trova adesso uguale questo è per l'estensione ovviamente dobbiamo aspettarci il cambio dominance nei time frame più piccoli se vado su h4 intanto leggo più cose del mercato che qua è iniziato ad essere molto più debole simbolo che i sellers non erano più così potenti stavano arrivando in una bella zona questo ovviamente è una caccia tutti questi minimi tutta questa liquidità qui mi cambia la dominance perché la dominance era short da qui questa estensione ci aveva rotto questo minimo e era ribassista anzi scusatemi non da qua dobbiamo guardarla bene da qui è da qui che parte l'estensione che rompe questi seller sono stati rotti dai buyers ora e mi ha fatto anche un massimo più grosso ora posso iniziare a comprare quindi io mi vado a prendere che cosa eliminiamo un attimo tutto qua so che da qui c'è l'ultima sell to buy cerchiamola però bene nei frame più piccoli andiamo su h1 vediamo se c'è più bella h1 è bella enorme m30 bella grossa m15 enorme m10 ecco m10 c'è questa ultima qua piccolina quest'ultima qua più precisa con la quale hanno cacciato impostazioni 448 e 9 facciamo i 20 e l'entrata la mettiamo qua prendendo questa qui di m10 perché è quella che ci va a cacciare tutti questi minimi noi staremo entrando su un test interno vedete questa è la struttura e quindi se la vogliamo fare con il rettangolo meglio questo è il test interno ok stop loss vedete come l'estensione a rialzo potente i best seller sull'arribasso sono più deboli sotto lo stop loss sotto il rifiuto facciamo la molto più grossa se no nei frame più piccoli non la vediamo nei frame più grossi non la vediamo volevo dire h4 questo ragazzi è tutta un'estensione quindi questi massimi qua intanto c'è un sacco di liquidità sopra da prendere ma a parte questo facciamola ancora più grossa daily qui ragazzi non esagero a dirvi che questo è un'estensione dei frame più grossi cioè anche qua dal massimo perché questo è price action ragazzi è questo che vi dico se capiamo questo minimo massimo più grosso minimo più alto se inizia da qua a reagire ok qua ci fa una bella estensione però qua parzializziamo perché comunque sul daily la dominance è ancora short da qua vedete questi seller si hanno rotto questa struttura quindi uno dei massimi take profit fino qua perché il mercato da qua potrebbe lo stesso regirci andare ai basso poi parzializziamo lasciamo un po' aperto per andare più sopra chiuderci l'inefficienza o addirittura romperci sto massimo ok lasciamo andare avanti andiamo su h4 così vediamo l'entrata ce la prende e poi il mercato inizia qua a scoppiare a rialzo andiamo sul daily e vedete come qua ci stiamo prendendo tutta l'estensione del monfl ovviamente il mercato piano piano riposa va su piano piano andiamo sul weekly ok e questa si poteva prendere ecco qua ci ha preso il take profit stoppiamo anzi addirittura è andata più sopra e questa ragazzi si poteva prendere ora qua è un 1.37 ovviamente avremo parzializzato prima avremo messo diversi take profit non l'avrei preso direttamente qua ne avremmo preso diversi però ragazzi soprattutto fino qua perché la dominance era ancora short al daily da qua quindi qua avrei chiuso tanto dell'operazione però ragazzi sono questi i concetti ti segni la zona di demand o di supply per il ribasso e ti aspetti il cambio dominance net in frame più piccoli che ti dà la conferma e per me questo pattern è veramente veramente mostruoso sia per la statistica che ci dà a nostro favore sia per i profitti che ci può far fare per entrare appunto con più precisione perché qua l'abbiamo aspettato su H4 ma alla fine la candelina che abbiamo preso è stata su M10 qua no? perché abbiamo trovato quella che ci serviva ragazzi vi richiedo di lasciare un like per tutta questa formazione ci vediamo al prossimo video ricordatevi di entrare nel canale Telegram qua sotto per restare aggiornati e avere cose esclusive e di iscrivervi al canale ciao a tutti ragazzi grazie a tutti